Sono misure severe, ne sono consapevole. Rimanere a casa, rinunciare a radicati abitudini, non è affatto facile. Ti dirò che un periodo di riposo mi ci voleva proprio, guarda. E poi passa tutta la giornata dietro la tenda della finestra. Tipo sparare i passanti. Spara, ma potente, eh. Vasi cinesi. Fa la cacca dopo la doccia. Oh, beh, guarda, me lo immagino. Roberto, non sono il pazzo io qui, va bene? Senti le voci? Non corro alcun pericolo, è tutto sotto controllo. Ti aspetto. Oh cazzo, Marika!